Hai aperto col Venezia e hai chiuso Reggio Emilia in mezzo 13 perle, oggi però forse la più importante, senza forse. Sì, oggi sicuramente la più importante, la più emozionante, la realizzazione appunto di un obiettivo, la fine di un campionato fantastico, chiusa con questa accessa ai play-off, che per noi è veramente un sogno e io sono contento di aver contribuito a realizzarlo, è veramente un'emozione indescrivibile. I sogni di Luca Miracoli adesso? Adesso il mio sogno è entrare nella leggenda con la Feralpi, quindi ce la giochiamo alla grande. Raccontaci il gol, in un momento delicato, in una partita molto difficile. Sì, ho visto Pinardi che prendeva palla sulle tre quarti, ho visto che se l'è portata sul sinistro e ormai ci conosciamo a memoria, sapevo che l'avrebbe messa sul secondo palo, quindi ho fatto un movimento per andare lì, la palla è arrivata, ho detto è gol, è andata bene. La tua esultanza è stata anche molto particolare? Sì, perché ci siamo tolti veramente, a quel punto ho detto è fatta, è nostra. L'importante appunto era trovare il gol, era trovare questa emozione, lì ci ha dato lo slancio per portarci la partita a casa e lì mi sono buttato a terra perché appunto era troppo bello, volevo sentire tutto, mi sono goduto tutto. Una dedica particolare? Il gol lo dedico a mia mamma e la qualificazione ai playoff, diciamo che vorrei dedicarla al mister, a Brac, a Pina e a Leo perché per la mia crescita in campo e fuori sono stati veramente importanti e secondo me è molto merito loro che siamo andati ai playoff.